L'ultimo scoglio per molti maturandi dell'anno accademico 2009-2010 è preso il via oggi con la cosiddetta prova orale. Per altri, come gli studenti di diverse scuole agrigentine, ci sono ancora un paio di giorni di tempo. Alicio Classico Empedocle, allo scientifico Leonardo, giusto per fare qualche esempio, i colloqui partiranno mercoledì 30 giugno. Uno slittamento concesso dalle commissioni esaminatrici per lasciare ai giovani candidati altre 48 ore per ripassare gli ultimi argomenti. D'altronde, quest'anno i ragazzi hanno affrontato le prove scritte in un vero e proprio tour de force, concentrate in un'unica settimana, a differenza delle edizioni precedenti, quando, tra la seconda e la terza prova, venivano concessi dai 5 ai 7 giorni di sosta. Il colloquio, si sa, di solito comincia con un argomento a piacere, per consentire al candidato di sciogliere l'emozione e l'imbarazzo iniziale, per poi saltare quella di domanda in domanda lungo tutto il programma svolto nell'anno scolastico appena concluso, con l'intento di accertarne la conoscenza complessiva. E da quando la formula degli esami prevede il colloquio dinanzi l'intera commissione su tutte le materie, è stata lasciata a facoltà ai giovani studenti di presentare una tesina, che può diventare un vero e proprio cavallo di battaglia se preparato con perizia. Non bisogna dimenticare che durante l'ultima fatica, che precede al tanto sospirato diploma oggetto di discussione, potranno essere anche gli iscritti. Insomma, i maturandi della classe 2009-2010 sono davvero in dirittura d'arrivo e una volta superato lo scoglio finale potranno munirsi in luogo di libri e vocabolari, di costumi e creme abbronzanti, per godersi la loro prima estate da diplomati.